Ancora una volta i cartoon di Bruno Bozzetto al servizio di una buona causa, una campagna di prevenzione promossa da Humanitas Gavazzini e indirizzata ai ragazzi. Cartelloni e video sono stati realizzati dai giovani dello studio Bozzetto proprio per i giovani, incentrati su quattro temi, l'igiene, le dipendenze, l'alimentazione, l'ansia e depressione. C'è una facilità di utilizzazione, c'è la possibilità di averlo in casa in qualsiasi momento. Il disegno animato è uno dei mezzi più forti per comunicare delle idee in maniera sintetica, pulita, chiara e quindi direi che soprattutto per questo tipo di discorsi funziona molto bene. L'animazione è cercare di usare un linguaggio che non sia da punitivo o che sia castigante ma che dia con un sorriso un momento di riflessione e quindi per noi riflettere su questo è stato importante perché ci ha fatto fare a noi stessi delle domande, soprattutto di come ci poniamo nei confronti dei giovani per convincerli ad assumere delle responsabilità nei propri comportamenti più elevate. Al progetto partecipano ASLE, Ufficio Scolastico Provinciale, che su questi temi promuove un concorso tra gli studenti. Un concorso per le scuole medie e gli istituti superiori che dovrebbe partire dal prossimo anno scolastico invitando insegnanti e studenti a produrre un prodotto creativo proprio ispirato alle tematiche del concorso. Il problema vero degli ospedali è che si occupano del paziente dal momento in cui entra al momento in cui esce come se non avesse una vita prima e non avesse una vita dopo. In realtà la tutela vera della malattia e la presa in carico del paziente sia nel momento in cui si agisce su di lui anche a livello culturale quindi decidendo sul suo stile di vita e anche sul suo modo di comportarsi.